Nuove sfide per la Tecfem, la società d'ingegneria multidisciplinare che opera nel settore energetico da oltre 40 anni. La continua innovazione tecnologica che persegue l'azienda Fanese le permette di operare in molteplici settori ed investire su nuovi progetti e piani ambiziosi, ad illustrarli l'amministratore delegato Federico Ferrini. Il progetto della KRS di Teca Gas è nato proprio per il nostro impegno che approfondiamo ormai da diversi anni nel settore dell'idrogeno. Abbiamo rincontrato dopo alcuni anni, dopo le prime collaborazioni, la società Teca Gas di La Mezzia Terme dove noi abbiamo trovato una sede ormai da oltre 15 anni. Ha visto in noi un potenziale partner per lo sviluppo di questo progetto e quindi abbiamo creduto in loro e abbiamo messo le nostre competenze e il risultato è questo ban conquistato per il PNRR. E nel dettaglio che cosa prevede? Il progetto Teca Gas HRS prevede la realizzazione di una stazione di rifornimento alla Mezzia Terme all'interno della Multifuel Station che già Teca Gas esercisce da alcuni anni e dove appunto rifornisce anche l'autotrazione di gas naturale liquefatto. gas naturale liquefatto. Quindi con l'offerta dell'idrogeno si realizzerà un unicum all'interno della distribuzione di carburanti a livello italiano in cui ci sarà appunto l'offerta anche di idrogeno verde. L'impianto, ha spiegato Ferrini, prevede una baia di scarico per i carri bombolai che arriveranno carichi di idrogeno verde. Il progetto si svilupperà fino al 2025 per rimanere nelle tempistiche dettate dal PNRR. Sempre nel settore dell'idrogeno, Tecfem è parte di un altro progetto, di che cosa si tratta? Il progetto Smart Hydrogrid nasce dalla nostra volontà di iniziare a sperimentare l'idrogeno proprio all'interno di una realtà industriale. Quindi abbiamo preso come riferimento il nostro stabilimento qui di Fano, la nostra sede, e sostanzialmente realizzeremo un sistema di accumulo di energia verde prodotta dal nostro impianto fotovoltaico in idrogeno. Quindi attraverso un elettrolizzatore trasformiamo questa energia in idrogeno verde, lo accumuliamo e poi attraverso una fuel cell lo andiamo a riutilizzare durante la notte quando il sole non c'è, per far andare i nostri impianti e quindi realizzare una sorta di pila all'idrogeno verde. È un impiego innovativo, ha poi giunto Ferrini, che ci consentirà di arrivare a un livello di autonomia energetica superiore al 60%. L'impianto verrà realizzato nella sede di Tecfem a Bellocchi di Fano. I lavori per lo Smart Hydrogrid sono già partiti, abbiamo già fatto il kick-off meeting con i partner, è una filiera di imprese di cui Tecfem è capofila, quindi siamo già al lavoro. La particolarità di questo progetto, oltre all'innovatività della gestione del energia verde attraverso la trasformazione in idrogeno, è anche la componente digital che abbiamo conferito al progetto. Infatti l'impianto sarà dotato di un digital twin, quindi una modellazione digitale totale che ci consentirà quindi di gestirlo al meglio in fase della sua vita utile e allo stesso tempo svilupperemo un sistema innovativo di Energy Management System che ci consentirà di sperimentare quindi tutta una serie di facility per la gestione dell'energia verde in ingresso all'impianto.